Non abbiamo fatto contatto ovviamente, sono sporco solo perché appunto il campo è quello che è, ma è stata una bellissima giornata, i ragazzi si stanno impegnando tantissimo, forse la nostra presenza li ha emozionati e comunque sono davvero molto attenti a quello che diciamo, ci seguono le indicazioni, sono molto bravi, rispondono molto bene. È stata un'esperienza incredibile, i ragazzi hanno messo un'energia fantastica, è stato proprio un bel allenamento, ci siamo divertiti, ci stiamo divertendo e sì, diciamo che avevo un'aspettativa di ritrovare magari un gruppo che non sa molto la nostra disciplina ma in realtà sono veramente preparati e questo è stato veramente incredibile. Essere qua e vedere i ragazzi che giocano è sicuramente qualcosa che mi insegna, più che altro mi fa vedere il rugby o anche la bellezza dello stare fuori all'aria aperta e poter giocare il rugby in maniera ancora più grande rispetto a quello che già rappresenta per me, quindi ho trovato un sacco di entusiasmo e voglia di fare e questo sicuramente fa parte della mia vita ma è come se avessi una valenza ancora più importante qua dentro e ancora non è una cosa scontata ed è una cosa molto preziosa, quindi bisogna coltivarla e lo vedo anche adesso che stanno giocando, li sento solo ma sono veramente belli da sentire e anche da vedere, hanno un'energia pazzesca. Sì, questo siamo stati divertiti perché era particolare, perché ci sono anche i giocatori della nazionale fuori è importantissimo perché ci seguiamo le regole, perché il rugby è basato sulle regole come si dà la mano ai tuoi compagni, come si fa le cose insieme di rispettare le regole ma è tanto nella vita non è facile, non è facile, è facile ma se impegni, è importante per la mette su regole, deve mettere impegni, se mette impegni la voglia, c'è la fa. La nostra voglia di entrare in questo progetto viene dal fatto che comunque secondo me personalmente essere un atleta è una cosa un po' privilegiati, cioè viviamo in un mondo forse un po' a parte, siamo quasi in una bolla e quindi in qualche modo lo sport ha un grande potere comunicativo comunque ed è giusto ritornare a qualcosa da un punto di vista sociale. Io consiglierei sì alle mie compagnie di squadra o amiche che siano di dedicarsi a questi progetti perché penso proprio che sia un'esperienza che poche volte si ha l'opportunità di vivere ed è sempre qualcosa da aggiungere a un bagaglio magari che noi consideriamo normale questo è qualcosa di diverso ed è qualcosa che secondo me può essere in più per una persona può migliorarla anche, può fargli vedere le cose in modo diverso quindi sì, lo consiglierei senza ombra di dubbio.